change sono luca ravenna e sono qui per un'altra puntata di change il podcast di intesa san paolo per parlare per l'ennesima volta di un argomento però in questo caso di cui non è che ne sappia qualcosa però sicuramente si tende a fruirne in modo un po più naturale come sempre c'è chiara pagliaccia eccomi qua e anche io sono qui per un altro episodio di change ma ci pensi mai quanto silicio serve per fare tutti questi vetri che sono intorno a noi allora no non ci penso mai mai nella vita mi è venuto da pensarci e ti chiedo di nuovo perché hai messo in pausa che stavo ascoltando e ora adesso non so neanche dove si trova il silicio e qua vedi questa manovella apri e chiudi apri e chiudi e ora silenzio e oggi parleremo di arte finalmente non perché ne la facciamo ma perché ne fruiamo il più possibile sì e poi l'arte è ovunque voglio dire basta girarsi no basta riconoscerla basta riconoscerla è vero è vero poi ne parleremo anche di questa concezione dell'arte ma qui siamo qui per parlare di arte e money non di tipo arte e sì quello che ci piace non ci piace no 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 di quando l'arte crea money crea cash crea altre parole che non so cosa vogliono dire ma per chiarire qualsiasi situazione c'è l'angolo dei dati come andiamo benissimo ottima oh dai 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 che andiamo che ora ci aspettano i ragazzi mi sa le 20 e 30 hanno detto ma allora possiamo ascoltare un nuovo podcast si chiama change change va bene però io opterei per non lo so la vita di sailor moon c'è un podcast sulla vita di sailor moon sì chiara ma voglio dire dove vivi vabbè ascolta ascoltiamo change e poi ci pensiamo ok va bene dai dai bello fidati fidati vai con change il tuo rapporto con l'arte buono se posso dire quando ero più giovane e andavo nei musei diceva non ci capisco niente poi una persona mi ha detto se ti piace è bello se non ti piace è brutto una cosa apparentemente semplice però mi ha risolto la vita perché giusto se cerchi solo bello brutto nelle rappresentazioni artistiche hai sei anni giusto è un ottimo modo per capire se una cosa ti piace o meno sono pienamente d'accordo ultima mostra che hai visto ho visto una mostra a Roma alla quadriennale ed era una mostra queer molto bella sì sì perché a me piacciono soprattutto delle cose che abbiano un significato invece c'è chi apprezza tutti i tipi di arte a me piace sempre se c'è un messaggio politico dietro cose del genere per esempio ne so quando ho visto la guernica di Picasso ho detto ah che bel quadro no perché quello è ufficialmente bello non si può dire che sia brutto secondo me c'è qualcuno a cui non piacerà sicuramente però ecco invece non riesco molto ad apprezzare sarà banale però così l'arte moderna a volte non mi arriva invece c'è un sacco di gente che ci sguazza io no a te arriva cosa pensi di chi fa quel tipo di arte? bravi in un'altra puntata avevamo affrontato il tema delle start up di convincere qualcuno a farti dare dei soldi per un'idea innovativa bla 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 siamo in zona di intortamento molto simile ah ok grazie per averlo detto tu quindi prenderai tu il flame di odio però figurati anche io lo penso tu come devi convincere qualcuno che quell'idea è incredibile e loro la espongono nel loro museo o ti pagano per realizzarla eh sì esatto cioè veramente complimenti complimenti ma come dicevamo l'arte è ovunque l'arte è ovunque bisogna saperla riconoscere esatto e poi bisogna saper far pagare un biglietto a gente che magari ha voglia di riconoscerla però c'è insomma soldi 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 giusto? è bello anche che vengano offerti gratuitamente tipo l'ultima domenica del mese musei se lo chiedi a me i musei dovrebbero essere almeno le gallerie nazionali così tutte gratuite se lo chiedi a me ma io faccio il ministro o sono alla sovrintendenza no sono uno che non ha voglia di pagare per dei biglietti questo è come di solito c'è un giorno alla settimana eh sì stanno dicendo costa un po' di meno che sono aperti però devi fare una fila proprio all'interno ma una fila alla settimana tipo ogni tot mezzi ogni tot ma infatti c'è stato un boom negli ingressi ai musei e qual è secondo voi il museo più visitato al mondo? l'Uvra il MoMA a New York il Louvre io penso di aver sbagliato una statistica dall'inizio di Change l'ho beccato praticamente tutto secondo me te li passa lui i dati può darsi che l'abbia letto prima no non è vero però ci sta dai che il Louvre sia il più sì sì è vero però adesso ci stiamo concentrando un po' troppo sui musei o sbaglio? sì troppo perché c'è anche la famosa musica il famosissimo teatro il mitico cinema e tante altre manifestazioni qual è la tua preferita? la cosa che dici ah cinema sì dai cinema sì sì il cinema mi appassiona di più diciamo che è il mezzo anche con cui lavoro quindi mi piglia di più ah sì? no non scrivo per il cinema però ecco sto scrivendo un documentario adesso quindi ah vedi? mi piace in bocca al lupo Crepi eh visto che è drifting eh complimenti ti hai calcolato il rischio eh? beh il rischio è il mio mestiere senti ma rimetti un po' quella robetta che sentivamo prima rimetto il podcast ah si chiama così? eh sì oggi dobbiamo parlare di arte e dei soldi che girano nel mondo dell'arte chi meglio di un artista emergente e un critico d'arte vecchio stampo ce lo può spiegare vai quindi abbiamo qui due personaggi che non sono Luca il primo personaggio di oggi è un artista moderno contemporaneo ha 24 anni è torinese ma vive a New York spera di sfondare con la sua arte che per ora viene capita solo dai suoi amici e dai suoi familiari che bella presentazione grazie mille per avermi presentato e piacere come si è avvicinato al mondo dell'arte? ma io penso che nessuno nasca se non immerso nel mondo dell'arte cioè l'arte ovunque devi solo saperla riconoscere e lei quando l'ha riconosciuta? dalla culla diciamo più tardi? sai che questo tipo di personaggi rispondono non esiste che non rispondano prendendosi al 2000% sul serio non c'è ironia mai questo è un mondo molto poco autoironico sì sono d'accordo anche perché devono vendere le loro cose e non è che devono ridere in faccia agli investitori quindi devono crederci davvero sì è un po' tipo la moda come prendersi sul serio in maniera proprio spietata eccessiva sì un po' sì e poi però è la tua opera che deve parlare no? sì quindi questo modo di prendersi sul serio è insostenibile se hai 24 anni sei italiano e vivi già a New York di base è facile che come al solito non vorrei tornare su questo tema la tua famiglia ti stia aiutando perché è la colonna portante di questo paese esatto dove vai a esporre a New York soprattutto se ancora la tua arte diciamo non ha sfondato io so come che si fa sfondare nel poter essere un mondo di un mondo incredibile di cartelli proprio estremissimi sì Matteo secondo te come si fa a sfondare nel mondo dell'arte? contemporanea non ho la statistica su questo però penso che come c'è una musa ci sarà qualcuno che si innamora perché change è anche amore si innamora dell'arte e che fa da mecenate per questo artista cioè spesso magari ci sono le residenze che vengono pagate da mecenati in quel caso poi possono andare là e sviluppare quello è uno dei momenti più belli secondo me quando tu tipo lavori in una banca e hai il portafoglio per occuparti di queste cose quello è bello quello deve essere uno dei lavori più più fighi che esistano al mondo eh sì perché tu puoi e non lo dico eh perché change banca intesa san paolo no no lo penso davvero lo pensa davvero me l'ha detto prima mentre bevevamo il caffè tu puoi praticamente migliorare la vita di una persona no di tante persone di tante persone perché ci sono anche gli spettatori cioè mecenatismo uguale se hai la possibilità di farlo per qualcosa che ti appassiona top nel mondo come io vorrei avere un portafoglio infinito e spendere solo in cose legate al mondo dell'arte bellissimo cioè tipo se becco sto torinese che vive a new york metterli sotto pressione tantissimo e obbligarli a consegnare in tempo queste cose che di solito non combaciano il potere e i soldi danno alla testa chiaramente già solo immaginarlo mi sto passando la mano sui jeans ti ho visto hai cambiato sguardo mi fai paura ma torniamo al nostro personaggio vai come descriverebbe il suo stile artistico in poche parole da scoprire ancora perché l'arte è pura è come sfogliare è come un fiore che si schiude dal mio interno e verso e anche nell'esterno è qualcosa che devi scoprire lo scopro io e lo scopro il pubblico insieme è in continua evoluzione non ho capito però mi fido mi fido ma sì ma sempre così la risposta che non capisci niente è vero è vero ti intortano però io te li darei se fossi un mecenato io adesso ti darei dei soldi ok vedi per far scoprire l'arte per farlo schiudere questo fiore che è un peccato se rimane solo un bocciolo esatto a volte si dice sì vabbè quello fa l'artista come se in realtà non fosse un vero lavoro no? è una passione è un'esigenza eh certo è solo è pura esigenza è una spinta da dentro certo i soldi certo i soldi ma dov'è che i soldi non contano però non ha orari non stacchi mai questa è una cosa vera però cioè se tu ti metti a disposizione di un lavoro creativo per forza di cose non stacchi mai cioè è sempre possibile che ti venga una buona idea un buon guizzo poi se scrivi come faccio di lavoro basta che ti resegni se hai a che fare immagino con la realizzazione di opere visive le cose sono un po' più complicate c'è un momento in cui devi farla come l'avevi pensata credo come l'avevi pensata perché qualcuno ti ha detto vai questi sono i soldi che metto su di te ma tu te le segni sulle note del telefono o è un taccuino telefono taccuino computer taccuino questo è il percorso che faccio ah ok interessante anche magari il nostro artista torinese farà così eh sì è qualcosa di sketch eh sì le è mai successo che la sua arte non venisse capita quindi che venisse stroncata magari da un critico non so se a questo livello di questo tipo di giovanissimi artisti hai già la possibilità di ricevere una critica cioè perché arrivi un critico a raccontare la tua opera magari un critico no però magari la mostri a qualcuno la rivista web che ti fa proprio sai quando ti guardano una roba e dicono sì vabbè boh io non so come funzioni però probabilmente quando quel critico mette la sua firma su un racconto di una mostra così già vale tanto c'è boh non ho a dire come funziona no non mi è mai successo no no ancora non ho avuto la sfortuna di incontrare queste persone che sono pagate per non capire la prende comunque con sportività diciamo certo cosa ne pensa delle forme d'arte emergente tipo gli nft ah boh quello è un mondo che proprio non capisco no l'nft già l'arte l'nft è un tramplei economico è un'idea è una non è neanche un'idea è un'illusione ottica ma economica non è arte non ha niente a che vedere con l'arte io sono vecchia scuola vecchia scuola ok abbiamo dei dati sul mercato degli nft è crollato malamente ah sì non è un grandissimo periodo un ottimo periodo per le aste di opere d'arte anche perché si erano accumulate un paio d'anni post pandemia si erano accumulate diverse opere d'arte che non erano state vendute e nel segmento pezzi sopra i 100.000 dollari è stato un mercato che ha registrato numeri molto in crescita per quasi tutti i segmenti quello deve essere un sogno per un giovane artista a un certo punto ti imbrocchi il filone giusto qualcuno nota le tue opere e piazzi un quadro a 100.000 euro deve essere incredibile incredibile sì poi però un tot va alla gente un tot va alla galleria anche dove l'espo cioè è un mondo c'è una torta da dividere è la vita ha mai sperimentato dei blocchi creativi come li supera? anche il blocco è parte della creatività lo devi raccontare e come lo affronta? boh non lo so rimango ad ascoltare quando rimani bloccato devi ascoltare ma adesso sta diventando siciliano questo fa scusate però sì questo è l'unico modo è presente quando devi scrivere una roba e non riesci ti devi placare un pochino per fare ordine io di solito faccio altro esco faccio una passeggiata poi magari il giorno dopo va meglio no? le idee migliori vengono sempre mentre stai camminando e non te le puoi segnare o quando assisti cosa che sta succedendo a chi ci sta ascoltando quando senti due persone che parlano non ti interessa quello che stanno dicendo è un momento in cui il cervello viaggia a una velocità incredibile come quando si faceva una lezione scomoda al liceo tipo matematica il cervello proprio viaggia come una super motard ma sai anche quando quando sto per addormentarmi cioè non riesco e dico vabbè ho già sonno me lo segnerò me lo ricorderò domani è un'idea così bella se vuoi diventare un pro penso che valga per chiunque quello è il momento in cui devi fare lo sforzo titanico di girarti segnarti la cosa perché lì è proprio fertile cioè qualcuno ha deciso di mettere al momento più scomodo della giornata il massimo della creatività sto d'accordo però se inizi a farlo cambia tutto sì perché spoiler insomma perché ci sta ascoltando se dici vabbè lo segno domani tanto è un'idea geniale me la ricorderò non è vero non ti ricorderai niente quando tipo stai camminando all'improvviso ti torna in mente qualcosa della tua infanzia dell'adolescenza un dettaglio tipo il sapore delle caramelle alla banana che mangiavi in montagna e ti ricordi di quella vacanza in montagna se non te lo segni quella cosa il tuo cervello ha fatto spazio e non te la ricorderai più cioè se non la dici se non la segni è tipo il momento in cui dal computer sposti un elemento nel cestino e poi lo sai non ho convinto che sia esattamente così è vero e ogni tanto è bello anche lasciarli andare i veri artisti sono quelli secondo me sono quelli che si usano per segnarsi queste cose cioè non buttano via questi momenti se li ricordano e se li segnano o li raccontano in nuove forme quindi mi raccomando il vostro sonno magari non ne beneficerà però sicuramente la vostra arte sì quindi state svegli questo personaggio è vero che ha a che fare con un'esigenza non con il lavoro il lavoro ti serve perché devi mangiare per essere vivo però ha molto a che fare con una spinta continua dall'interno sì mi sento di dire queste parole forti che non ha mai detto nessuno grazie Luca grazie grazie chiara sei pronta dai dobbiamo andare in discoteca stasera dai non vedo l'ora ascolta già un momento delicato per me la discoteca ok abbiamo 40 anni non è proprio il massimo ma che significa sempre su queste ristrettezze mentali 40 anni ma che vuoi che sia non bisogna divertirci dai io sono un intellettuale Federica io ascolto i podcast podcast mamma mia che noiosa che sei che podcast stai ascoltando adesso ascolta metto su questo podcast vedrai che non andrai più in discoteca sei pronta divertente vai vediamo dai se ci riesci assistente virtuale metti change il podcast ma diamo spazio al secondo personaggio di oggi che è un critico d'arte è sgarbi ma non è sgarbi toscano di 86 anni si è fatto cacciare dal Tate Modern a Londra urlando questa non è arte non posso farlo toscano perché lo fa un mio collega comico non lo so però sono quelle persone che parlano così che parlano che parlano che parlano si 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 persone che si parlano si sbrodano addosso si si parlano sopra di quanto sia indispensabile l'arte per risollevare il mondo e l'economia anche perché non facendola ma commentandola figurati sul parlarsi addosso siamo proprio in una zona come l'ossigeno che si respira sull'Everest cioè l'aria è finissima è poco e tu devi cercare di tutte cazzate che butti si si buttare fuori e poi infatti le chiederò dimmi dimmi ecco diamoci del tu diamoci del tu scusami lei che fa il critico d'arte ha mai avuto delle velleità d'artista no purtroppo questa è la domanda peggiore che puoi fare ma mandatela via questa stronza ma io ci voglio parlare con questa cosa perché di solito di solito è così un po' come gli allenatori di calcio che volevano diventare dei calciatori non per forza dici no perché quello è proprio una cosa che poi cioè spesso sono ex calciatori di vari livelli però è ovvio che se tu commenti è perché avresti voluto cioè è naturale ma anche perché siamo tutti artisti del commento e quindi non mi fai più queste domande mi ricordi quando ero giovane quindi no diciamo che non ha mai avuto vell'età d'artista no no diciamo di no ah ok ok come si diventa invece un critico d'arte questa è una domanda alla quale non è di accettare di laureare fare penso una carriera accademica c'era qualcuno che puoi inventarti probabilmente un professore poi inizia a scrivere a pubblicare quelli che noi conosciamo ultra popolari perché sono usciti dalla nicchia e sono entrati nei media tradizionali io sono nato ricco ho avuto questa fortuna ah ok eh ci sta però mi piace la sua sincerità a differenza del personaggio del ragazzo che insomma vive a New York ma lui deve vivere nella menzogna io posso vivere nella realtà questa fortuna è straordinaria poi diciamo uno delle cose migliori di invecchiare è che appunto uno può dire che non te ne frega più un cazzo esatto infatti non vedo l'ora di avere 70 anni eh vedrai vedrai si guadagna bene facendo il critico d'arte? questa è una bella domanda la quale mi sembra che quelli strafamosi stiano bene di base di solito poi hanno più mestieri sì ma poi scrivono 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 fanno professori magari storia dell'arte ma poi sei a capo di un mercato puoi cambiare la vita la carriera di una persona chissà quante cose vengono fatte con la mano sinistra dai grandi critici d'arte vengono fatte fare l'assistente e con quelle due parole cambiano il destino di un incredibile come fai a non avere delle manie di grandezza se puoi decidere del destino di altre persone la gente ti legge o ti ascolta per capire qualcosa che è quasi inspiegabile spesso e volentieri oppure che ha a che fare con un percorso storico di narrazione eh beh sì anche lì potere potere te la ricordi della trasmissione che aveva Sgarbi in tv? certo Sgarbi quotidiani sì avevo tipo 5 anni sì sì era sempre in tv non capivo niente però mio zio me la faceva vedere non so perché per punirvi però in generale guardare un dipinto qualcosa di raffigurato anche se non capisci niente ti rimane ti lascia una spolverata di qualcosa tu lo capivi? io ci credo quanti anni avevi? no io un anno più di te non capivo niente ok dicevo solo papà cambia ti prego sì sì anch'io anch'io però ce la facevano vedere chissà se grazie a quella trasmissione abbiamo appreso qualcosa ti sei trovata a Reina Sofia a vedere Guernica a dire vedi bello bello grazie grazie a Sgarbi quali sono le sue preoccupazioni principali riguardo ai nuovi artisti emergenti e alle tendenze artistiche contemporanee? ma io nella contemporaneità non ci ho mai capito niente io sono un essere umano del presente scusa del passato e del futuro non sono una persona del presente la contemporaneità ma cosa ci raccomando è già passata guarda è passata quindi qual è la sua arte preferita? la prossima quella che ancora non conosco quella che si schiude come un fiore che la impai mentre si schiude anche l'altro ospite ci ha detto la stessa cosa è proprio una cosa che va di moda nell'arte questa metafora del fiore quella di conoscere che lo impai quello che lo arriva e poi può muore bellissimo credo che mi iscriverò a un corso di arte dopo queste sue di critica d'arte di critica d'arte ma sicuro ci sono trovarsi in sette o in dieci di fronte a uno che manie di grandezza totalmente fuori controllo in una birreria che presta una parte del pub no pub birreria non c'entra il posto dove si fa ceramica poi la sera fanno anche due drink e si sta lì a chiacchierare pensa come ne esci rintonti mamma mia che ambienti veramente difficili mi sembra e poi magari è un pregiudizio soprattutto se hai un carattere che non riesci a filtrare quello che dici eh sì abbiamo dei dati in tutto questo cioè stiamo parlando tanto di musei cose così ma l'italia è un paese che come sempre ha il 50% di tutta la storia dell'arte del mondo dell'universo e le professoresse di educazione artistica si bullano di questa cosa come andiamo a musei? i musei vaticani di Roma che non sono in Italia sono tra i musei più visitati al mondo spesso al secondo posto gli uffizi di Firenze proprio nel 2023 hanno eguagliato il record superando i 5 milioni di visitatori con un casso di 60 milioni di euro che poi si spera vengano reinvestiti non solo nel restauro ma anche per finanziare i progetti di giovani artisti però la domanda che ti faccio secondo te quanti sono italiani e quanti sono turisti da fuori? io sono andata anche se sono italiana cioè sono un po' le cose che devi vedere non mi è arrivato però ho detto bellissimo è bellissimo a Firenze ah ok agli uffizi però sono d'accordo secondo me molti sono turisti ecco ah vedi buona sapersi però tu sei un amante quando entri al museo piena di energia alle prime due sale e poi è tutto un pensare a quando si va a mangiare sì ok e tu? sì totalmente ho grandissima concentrazione nei primi due inutili sale di storia che ti preparano alle cose belle che vedrai dopo di fretta per andare a mangiare sì o fare l'aperitivo tipo comunque sono stato a Boston al museo stupendo forse più bello che abbia mai visto ho perso due ore nella sala degli antichi greci tutte cose che avevo già visto 80 miliardi di volte e poi volavo nella zona diciottesima diciannovesimo secolo che era incredibile io non riesco a registrare non so se ho una memoria pessima magari leggo anche le cose il giorno dopo mi sveglio tabula rasa come se mi fossi ubriacata non so perché ti sei ubriacata di bellezza ah è per questo penso di sì e l'arte questo fa secondo lei l'arte è democratica? l'arte è democratica l'arte ha un condottiero che è l'artista è un popolo che segue l'artista un popolo magari anche solo di una persona quindi è tutto tranne che democrazia è assolutismo è tirannia ma non è democratica l'arte non è democratica secondo lei dovrebbe essere accessibile a tutti dico anche attraverso magari piattaforme digitali social media social media cosa capisci con social media se devi davanti a te hai la vena dei botticelli la vedi in un riquadro di 3 cm per 4 cosa capisci? cosa vedi? riesce a girare perché chi non potrà mai andare nel museo cioè devi proprio trovarsi davanti alla venere dice lei per capire è una cosa diversa è una cosa diversa giusto è un po' come vedere insomma lo spettacolo in teatro è un po' come fare l'amore o guardare un filmato pornografico questa è la grande differenza mi piace bellissimo esempio grazie mai detto da nessuno però sì è questo bello però è questo dai abbiamo dei dati change è anche amore quindi grazie per averlo ricordato dei dati sulla pornografia come forma d'arte sì non l'avevo inclusa nelle forme d'arte beh secondo me lo è tutto è arte tutto può essere ma non è che lo diciamo noi l'hanno detto i grandi artisti prima di noi secondo me l'Italia non è un paese nel quale si tende a investire neanche nell'educare all'andare dal vivo beh nel mio caso sicuramente no immagino che esistano delle famiglie in cui i genitori ti portano i figli al museo ecco a me non mi ha mai portato nessuno quindi mi sono autoportata a volte costringendomi tu invece? no io ci andavo al museo da piccolo con i miei genitori e ha funzionato? sì comunque mi piace l'idea ti fa sentire super friccichino quando entri in un museo esce e quando ti chiedono cosa hai fatto no sono stato un museo ti fa sentire che sei più figo degli altri perché comunque qualcosa ti lascia non so dove vada a finire questo ragionamento e perché ci siamo concentrati così tanto solo su questa forma d'arte beh l'Italia è tra quei paesi che introduce la storia dell'arte già spesso al liceo ecco perché l'abbiamo fatto no le medie anche storia dell'arte le medie sì ah sì è uno dei pochi paesi voi vi ricordate quando facevate storia dell'arte tantissimo al liceo certo certo che sì c'è un momento in cui ho detto piuttosto che andare a vedere Antonello da Messina mi sparo in un ginocchio sì l'ho pensato con molta forza poi però mi sono trovato di fronte a un dipinto di Antonello da Messina e ho detto ah vedi che stupido che sono è vero qual è stato il tuo momento scriviamo una cosa bella davvero perché questo è un tema è impossibile parlarne no perché come sempre noi non ne sappiamo niente però cosa è arte cosa non è non lo possiamo mai dire cosa è bello quella frase che ti hanno detto è bello quello che ti piace se ti piace è ok se non ti piace no hai mai avuto hai mai provato la famosa sindrome di Stendhal davanti a un dipinto io ogni volta che vado a Roma e vedo il Colosseo provo quella cosa lì ci sta ci sta il Colosseo è ineguagliabile secondo me io abito molto vicino al Colosseo e quando ci passo in Motorino sono già ho già fatto quasi un chilometro di strada e sono già nervosissimo per le strade che ti portano verso il Colosseo quindi tendo a godermelo un po' di me ah certo perché sei abituato cioè perché è un po' la cosa che succede a Roma ti insegna la bellezza come città perché vedi le cose più belle dopo però vivendo lì pensi tutto il tempo a lamentarti sì è vero anche perché le strade sono incredibili incredibilmente difficili guidare a Roma sotto l'arco di San Giovanni guidare a Roma è un'arte io sto pensando nel momento ho avuto sindrome di Stendhal un momento non patriottico ma celebrativo della regione Umbria quando ad Assisi ho avuto il piacere di vedere il Giotto in tutta la sua purezza grazie beh sì perché l'Umbria è la mia regione e credo che tu sia l'unica persona che l'abbia nominata nell'ultimo mese quindi grazie Luca figurati quello è stato un bel momento bellissimo anche secondo me bella quella basilica anche diciamo bella se ti piace ok se no se non ti piace no esatto quindi chiudiamo così lo possiamo dire anche di change se ti piace ok se no ti piace no oppure se non ti piace change 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 change